Ciao lui e Cristian, stomaco di ferro. Questo è il remake di Rutto Assurdo. Via! L'ultima volta ha bevuto ininterrottamente per 42 secondi. Vediamo se ora riuscirà a fare di meglio. Vai! 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 Ok, come non detto. Vediamo se supererà il suo record personale. E siamo a 42, signori. L'ha superato. Vediamo quanto arriva questa volta. 51 secondi. Ok. Mi si è fuso il cellulare.